Com'è la fila? È sempre più lunga. Mi dici che ti ha fatto Gesù? Lui mi ha guarita. Tanta fama attira anche i nemici. Dobbiamo sempre stare in guardia contro i falsi profeti tra di noi. Parlava di te, maestro. Così è perfetto. Rimanete con me e guardate. Chi sei tu? Guardami. Alzati. E cammina. A volte bisogna agitare un po' le acque. The Chosen. Ogni lunedì alle 20.55.